Riprende la marcia del Barletta dopo il K.O. di domenica a Palma Campania. La salvezza diretta si è allontanata a 4 punti con il rotonda prossimo avversario al Puttilli che affronterà i biancorossi, certo di non scivolare in zona play-out in caso di sconfitta. La squadra di Ciullo però non può permettersi di fallire l'appuntamento del 17 marzo contro i Lucani provando a portarsi ad una sola lunghezza di distanza. Settimana ripartita con il consueto programma di allenamenti, seduta pomeridiana il martedì e doppia sessione il mercoledì. Novità importanti nello scacchiere biancorosso con tre rientri che possono ampliare il ventaglio di opzioni in vista di domenica. Lobosco ha scontato il turno di squalifica e riprenderà il suo posto sulla corsia mancina di difesa. Nuovamente in gruppo è Yango dopo diverse settimane di stop, pronto adesso per giocarsi una maglia da titolare a centrocampo. Arruolabile è anche Garofalo che fornisce un'alternativa in più sulla fascia destra del pacchetto arretrato. Ciullo punta ad un maggiore cinismo sottoporta, di fatto ottenuto a Palma Campania dopo l'ingresso di Lamonica, autore del gol che ha momentaneamente riacceso le speranze del Barletta prima del triste La Palmese. Il tecnico Leccese ripartirà dai suoi punti fermi in difesa e in mediana, ma prendono piede anche le valutazioni in attacco dopo un'altra prova in colore di Diaz. Otto giornate da giocare, un trittico fondamentale all'orizzonte, rotonda in casa, gravina fuori e derby della Bat al Puttilli con la Fidelisandria. Il Barletta per salvarsi deve massimizzare i risultati nel mese di marzo.